Il Pescara stringe per Cristian Galano, classe 1991. Vecchio pallino del DS Giorgio Repetto, più volte accostato negli ultimi anni al Pescara. Ora l'affare può essere concluso. Passi avanti e concreti col Parma, proprietario del cartellino del Fantasista, rientrato in Emilia dal prestito di Foggia. Asse caldissimo col club Ducale in procinto di acquisire le prestazioni di Frank Canuté. In Trigo Brugman al centrocampista uruguayano sembrano interessate Benevento e Cremonese, ma non è ancora partita una richiesta ufficiale. Valutazione non inferiore ai 3 milioni di euro. Col Benevento ci potrebbe essere un incastro accattivante. Parliamo infatti di Pietro Iemmello, in uscita ma legato al club campano da altri due anni di contratto, a circa 500 mila euro netti a stagione, non proprio Bruscolini. Juventus di nuovo su Elisalde, soprattutto su due giovanissimi prospetti bianchezzurri. Leonardo Cerri, di cui già si sa da tempo, prima punta del 2003, e Andrea Cagliò, mezzala prelevata in prestito lo scorso anno dal Catanzaro e riscattata a caratteristiche molto simili a Filippo Melegoni. Entrambi sono stati forgiati da Felice Mancini, responsabile dell'Under 16. Infine, come già anticipato, il neo allenatore della formazione primavera sarà Nicola Legrottaglie. Tutto fatto, manca solo l'annuncio. In Lizza c'erano Pierluigi Iervese e Francesco Tomei. Alla fine invece Sebastiani ha scelto l'ex difensore della Juventus, appunto Nicola Legrottaglie, 43 anni, più di 250 presenze in Serie A, ha indossato anche le maglie di Chievo, Bologna, Siena, Milan e Catania. Il nazionale ha esordito proprio all'Adriatico, nel novembre 2002 amichevole con la Turchia finita 1-1. Da allenatore ha guidato gli allievi del Bari, l'Akragas in C ed è stato vice di Massimo Rastelli a Cagliari in Serie A.